Eccoci allora e siamo con il terzo ospite della nostra mattinata, Roberto Chialini, titolare di Stile Ricamo. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, un'attività che andiamo a scoprire proprio oggi, perché ne parlavamo proprio poco fa, no? Prima di cominciare di entrare in diretta. Ci sono delle attività magari che si immaginano in un certo modo e poi sono effettivamente in quel modo lì, altre attività invece che nell'immaginario, quando io dico Stile Ricamo, mi immagino delle persone con l'ago e il filo che prendono il ricamo. Oggi vi racconteremo di questa attività importante del nostro territorio, che invece è un'attività modernissima in quanto attrezzature, avviatissima e lanciatissima e inserita nel mondo della moda di altissimo livello, insomma una vera e propria sorpresa. È vero, sì, è un'attività chiaramente nel territorio nostro, è un territorio dato da salotti, cucine, quindi prevalentemente mobile. Sinceramente la nostra attività, diciamo che non è che ci stia proprio a pennello. Fosse stato a Scandicci, probabilmente sarebbe stato un polo proprio dell'alta moda e quindi mi sarei sicuramente trovato meglio. Però devo dire che comunque siamo contenti perché oggi anche queste attività diverse, ovviamente, come dire, è importante sì il territorio, ma funzionò dappertutto. Esatto, cioè al di là dell'idea del distretto tematico, sarebbe importante vero. Perché oggi poi più che mai io vedo che le aziende difendono molto il territorio e questo purtroppo è un po' penalizzante. Confesso che a volte, sì, fantastica, nella vita fantastichiamo tutti, no? Confesso che a volte, dico, sarebbe bello portare la fabbrica, adesso io ho preso il riferimento a Scandicci perché è un po' l'importante, ma ce ne sono altri, perché chiaramente sarebbe tutto molto più facile, tra virgolette, perché poi è ovvio che non è il posto che fa l'azienda. L'azienda, poi per noi che comunque facciamo un lavoro, come dire, di abbellimento, no? Se vogliamo viene arricchito un capo. Quindi se non c'hai una professionalità proprio, tutti i giorni siamo ad imparare, tutti i giorni dobbiamo studiare. Quindi è ovvio che questa è la cosa principale. Allora, entriamo nel vivo e spieghiamo ai nostri telespettatori. Innanzitutto, il laboratorio esiste dall'88, per cui è vero che se fosse eccetera, però è anche vero che invece qui è e qui resta da 33 anni. Avevi i capelli neri, non dico come te, perché tu sei del bianco. Esatto, anch'io, 33 anni fa avevo i capelli neri. Avevi i capelli neri e tutti belli fulti. Esatto, per cui insomma gli anni sono passati e non sono passati in vano, perché naturalmente da questo primo laboratorio, che è nato nell'88 e che ha cominciato a avere questa intuizione, l'idea del ricamo, siamo andati avanti, siamo andati avanti e a questo punto la tua è una delle attività più importanti, possiamo dire, a livello italiano, perché è un'attività che si relaziona, io qui ho preso qualche appunto con Dior, con Versace, con Ferretti, Diesel, Moschino, ne ho presi solo alcuni perché c'è un elenco infinito, se avete la curiosità e avete un computer sotto mano andate a vedere stilericamo.it oppure la pagina Facebook naturalmente dedicata e vedrete appunto l'elenco dei marchi, qualche bella foto anche un po' a effetto, il giubbino dell'addio al nubilato di Chiara Ferragni, insomma voglio dire ne combinate di cose nel mondo della moda. Sì, diciamo adesso obiettivamente più importante no, diciamo che ce la caviamo abbastanza bene, a differenza di tanti altri, inutile dire che qui comunque ci vuole la passione, la passione è la cosa fondamentale, la cosa che ci distingue forse che nel nostro laboratorio, esempio tempo fa è venuto Diesel da noi, si è complimentato perché lui in genere le lavorazioni che ha fatto da noi le fa in tre laboratori distinti e questo comunque è un orgoglio no, questo comunque è una fidelizzazione verso il cliente che comunque una volta che ci conosce sa che comunque lo supportiamo ed è una carta abbastanza importante per andare avanti. È ovvio che devi sempre lottare perché poi il mondo della moda da fuori è bello, gli abiti sono belli, uno va in queste vie, Monte Napoleone eccetera eccetera, vede grandi cose, però dietro ci sono dei tempi, nemmeno stanno a raccontarli perché sembrerebbe proprio fuori dal tempo. La professionalità per sopravvivere in questo mondo è data appunto innanzitutto dall'aggiornarsi con le attrezzature, l'abbiamo visto passare adesso nel filmato che c'è tra l'altro anche sul sito, questo numero molto alto di macchine che fanno appunto tutte insieme la stessa cosa computerizzate in modo da poter affrontare volumi di lavoro anche alti e importanti perché altrimenti a una alla volta insomma il lavoro sarebbe un po' lunghetto. Dall'altro il personale credo no, anche il personale è una risorsa molto importante. Guarda, io credimi, noi siamo circa una quarantina di persone, occhie cruce no, io credo che in linea di massima, poi è ovvio, non è per tutti uguale no, ma in linea di massima lavorano tutti col cuore, cioè ci vuole un po' di passione, se non c'hai un po' di passione non ti riesci a dire nemmeno il lavoro. È bello che parli con qualcuno, a volte vedi che nonostante poi questi tempi stritti, sai da noi non è che si fa una fabbrica normale, si fa dalle otto a mezzogiorno, noi devo essere più o meno, noi quando facciamo poco facciamo 16 ore al giorno, quando facciamo poco, i tempi sono lunghi ovviamente, per fare ricami non è che si fanno così in un attimo, nonostante che non ci sia la donnina col filo e col lago, nonostante che siano tutte macchine come dicevi te Paolo, ma non è solo la macchina o le macchine, è la continua evoluzione. Se devo fare una riflessione in questo momento, mi viene da pensare che noi abbiamo un elettricista, non ti dico fisso, perché poi sembrerebbe di essere la Fiat, no? Però è abbastanza lì presente, non tutti i giorni ma quasi, a fare prese diverse, perché arriva una macchina, perché ne va via una, cioè si cambia, si interscambia, c'è sempre un po' di movimento, quindi questo ti porta insomma un po' a, come dire, a essere sempre in, nel termine giusto, alla ricerca di tutte queste nuove combinazioni, no? Per dare un know-how, il sempre meglio al cliente. Voi naturalmente con questi grossi marchi lavorate su commissione, su indicazione, vi chiedono di fare una certa cosa e voi la fate, oppure date anche delle indicazioni voi su certe proposte. Diciamo che a seconda del tipo del cliente, molti hanno stilisti loro interni e tu devi seguire le loro linee, altri invece ti buttano delle idee e tu le idee le elabori, ma idee di schizzi. A volte uno dice, ma questa cosa vuole? Per dire, no? E poi magari il solito disegnetto te lo fai 15 volte, il solito disegnetto te lo sviluppi 15 volte. E poi queste 15 volte non è che tu arrivi lì, schiacci un bottone, oggi vai su Marte, schiacci un bottone e sei a posto. Non è così, perché comunque alla fine, a parte la professionalità che qui è assolata, se non c'è quella non vai da nessuna parte, ma ci vuole il tempo esecutivo. Consiglia che noi abbiamo dei ricami che stanno in macchina a cucire. Li stiamo vedendo, è affascinante vederli così. Quello è un ricametto piccolo che non è che ci voglia tanto, però ci sono dei ricami che stanno sotto nelle macchine 15-20 ore. Quindi immagina te un ricamo che sta sotto nella macchina 15 ore e arriva la quindicesima ora, qualcosa va storto, si rompe un ago, si rompe... dai, tanto, tutto può succedere. Certo, certo. E quello viene scartato perché comunque sai che non sarà accettato. Quindi per farti capire che se un giorno hai la luna storta, forse è meglio che certi lavori non li fai. Esatto. Effettivamente certi lavori, scusate sono un po' lungo ma al cuore, no alla fine, i capelli bianchi come dicevo prima sono per quelli, no? Se certi lavori effettivamente tu riconosci anche le persone più giuste che li possa fare. Quindi al secondo del lavoro abbini anche la persona perché sai che c'è più calma o meno calma o bla bla o tutto quello che circonda. Ecco perché c'è questo slogan che campeggia nel vostro sito, non esistono standard, tutto è su misura. Perché poi nella realtà dei fatti questo succede, in pratica anche sulle grosse produzioni è vero, quelle seguono lo standard ma la filosofia è la filosofia di fare le cose su misura. Ma sai, tanto nel corso della vita l'abbiamo visto in tante cose, no? Ci sono apparentemente cose uguali, belle ugualmente, ma una è proprio bella, l'altra è quasi bella. E' quella che fa la differenza, capisci? E tu sei sempre a cercare questa bellezza sempre di più, perché poi è quella che ti fidelizza, come dicevo un attimo fa, al cliente che te lo sposa. Noi pensano, non abbiamo commerciale, io a volte mi chiedo come fai senza commerciale? Allora, stavo per farti la domanda adesso, nel senso che anche a questi livelli altissimi, di questi marchi altissimi, funzionerà il passaparola? Cioè dove ti rivolgi te, chiede il responsabile di Dior a Versace, ah io vado da Stile Ricamo a Pesaro. Ma guarda, poi non sarà proprio così, però in realtà è un passaparola. Certo. In realtà anche qui, sai, non è facile tirare la vita in generale. Però tirare avanti un'azienda o far nascere un'azienda come ho fatto io 30 anni fa, 33 anni fa, una macchinetta, blablato, le varie menate, che comportano il tutto, ma voglio dire, devi cambiare un po' anche la mentalità, avere un po' meno paura, perché poi sai, io anche far fiere poi mi spaventa perché, come dire, arrivano tanti potenziali clienti e poi dico, ce la farò servirli tutti. Ce la farò, esatto. E quindi, come dire, sei un po' tu fasciato con le tue idee, e purtroppo è un limite mio, che preferisco magari lavorare meno, ma servire a tutti come deve essere. Consiglia che noi facciamo ancora 24 ore da 3 anni, quindi... Sì, sì. Non lo so, dimmi te, come la metti, la metti male, o la metti bene, non so cosa dire. Infatti, diciamo bene sicuramente. Tra i vostri quattro, diciamo, le vostre quattro attività sono ricamo, poi strasse e borchie che vengono messe insieme, c'è anche stampa di tessuti e il taglio laser, che è un'innovazione. Come dici te, sai, ma sono attività che si sono affiancate alla stile ricamo nel tempo, per il solito discorso che facevo poc'anzi, fidelizzazione. Cosa voglio dire? Voglio dire, te fai ricamo, poi la moda vuole lo strass, e tu lo strass logisticamente diventa sempre un casino, scusate la parola, che prende la porta da un altro fornitore, con tutte le bighe, bla bla. Allora, noi nel tempo abbiamo sempre cercato di far tutto internamente, e questo, voglio dire, ha dei pro e dei contro, no? Perché, sai, porti fuori un costo certo, molti fanno così, e molti hanno vinto, ma molto più di me, perché fa tutto io, però in realtà non fai niente, quindi sono i furbi, hanno fatto bene. Tornassi indietro, forse lo farei anche io, ma un po' per il fatto del territorio, che qui a fianco di me io ho Tecnoplast, dall'altra parte c'è Centro Service, tutte cose cucine, mobiliere, non è che ho quello del tessuto, eccetera, eccetera, un po' forse sarà anche per quel fatto lì, ma un po' perché comunque, avendolo internamente, quindi a volte anche, sai, uno dice, faccio la stampa, ma la stampa anche qui ci sono dei software, ci sono delle macchine in evoluzione, tra l'altro me ne deve arrivare un'altra in questi giorni, e quindi c'è uno studio, no? Di tutte queste attività, ad ogni essa che tu hai elencato, sono macchine che di continuo si aggiornano, di continuo tu le cambi, di continuo tu le studi, e affinché riesci a fare un tuo, come dire, una tua combinazione, per rendere un capo, insomma, unico, che lo puoi fare te internamente, quindi il cliente quando parla, tu sai già, perché sono cose del tuo quotidiano. Cioè, dove non c'è il distretto, voi vi siete creati il distretto interno, ma è un valore molto grosso, secondo me, se io fossi un cliente vi sceglierei, perché così so che parlo con uno e ottengo tante. Guarda, io sono un po' avvenito sti giorni, perché abbiamo cambiato quattro laboratori, adesso siamo in un laboratorio, tutto sommato, dai, sai, creare un laboratorio non è che sia più facile, facile, no? Certo. Ecco, perché vi invito di fare un saltino, perché uno ci rende conto un attimino di com'è, non è la solita macchinetta, filo, lago, eccetera. E adesso purtroppo ne abbiamo preso un altro, più grande, e quindi trasferire tutto questo, però lo devi fare, capisci? Perché c'è una macchina al porto di Genova, che dovrà stare al porto, perché non mi sono creato abbastanza spazio per metterla lì dentro, perché lì dentro, eppure, noi abbiamo 2000 metri quadrati, quindi non è che siamo ricamifici, uno dice, è una stanzina da 4x4, e fai ricamifici, abbiamo 2000 metri quadrati. I vecchi capannoni dei cucinieri, se vogliamo, no? Certo, certo, certo. Adesso ovviamente non sono più così, però per dire che gli spazi, purtroppo, sono importanti, perché comunque stiamo molto attenti, anche il fatto dello spazio non è solo per la macchina, è bello che quando il tuo dipendente sta sereno, perché comunque è rinnovato il pavimento, è bello pitturato, è più arioso, è più sviluppato, riparti dal nuovo, insomma, quindi come riparti dal nuovo, riparti dal meglio, nel senso che le macchine distanzi ancora un po' di più una dall'altra. Allora, in una parola la qualità, la qualità ripaga e lo si vede, insomma, dal fatto che appunto voi lavorate tanto, ma poi lavorate tanto e questo un significato ce l'ha, perché tempi difficili, un mondo, se vogliamo, un po' effimero, come quello della moda e tutto il resto, però in realtà questo è il risultato. Ci siamo presi anche qualche minuto in più, ma mi piaceva continuare, no, no, mi piaceva continuare appunto ad approfondire e parlare di tutto questo. Ci salutiamo con una risposta secca, ho visto che sul sito c'è anche uno spazio per i contatti, voi vi rivolgete anche ai privati oppure comunque è solo per le aziende? Allora, risposta secchissima perché siamo già fuori tempo. Allora, te la rispondo così brevemente, una risposta secca, purtroppo non siamo capaci di no a nessuno e questo è il nostro limite, e questo, mi credi, è il nostro limite. Per cui anche se viene un privato che ha... Poi magari all'amico non glielo fai nemmeno pagare, a te ti costa soldi perché sai quanto costa, noi paghiamo tutto regolarmente, come è giusto che sia, quindi immagina quanto può costare. Guarda, io dico che è il vostro preso. Non puoi dire di no. Perché... No, io non... Imprenditorialmente, secondo... A posteriori no. Allora, secondo i capitani di industria sarebbe no, però secondo... A posteriori no, però purtroppo... Chi vive di passione... Io sono già contento così come sono, quindi per carità, però un altro posto mio farebbe molto diverso, la farebbe viaggiare di più, guarda, credimi. Certo. Tocca essere un po' meno, come dire, andare più sul solo. Un po' viaggiare, però con questa tecnica, con questa metodica hai ottenuto dei risultati straordinari. Sono contentissimo, lo posso dire diversamente. E quest'idea di venire a vedere l'azienda è un'idea praticabile, anche per esempio per le scuole, cose di questo genere? Ma già vengono? Già vengono a vedere, immagino, perché... Già vengono. Sicuramente c'è... Già vengono, è una realtà che veramente io trovo gente ancora, dopo tanti anni, che rimane sorpresa. Certo. Perché vedono cose che non ho mai visto. Non è che uno va su Marte, ripeto, no, 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 è certo. Però è una cosa diversa, che non se ne immagina nemmeno, ma tutti i giorni, questo è bello, perché vedi che la gente ha una reazione, insomma, un po' meravigliata. E questo, insomma, ti fa piacere. Bene. Allora, contattate Roberto Chialini, di stile Ricamo. La zona è chiusa di ginestretto, no? La zona è proprio sì, Burgo-Santa Maria. Burgo-Santa Maria, sì, la zona industriale. Ancora qualche mese, perché poi verremo qui al casello dell'autostrada di Pesaro. Ah, beh, con questo laboratorio nuovo che state attivando per poter sbloccare questa macchina che a Genova non ve la tengono più. Sì, stiamo in tutti e due, adesso dobbiamo un po' decidere. Però la nuova location l'abbiamo presa, questa qui al casello dell'autostrada di Pesaro, insomma. Siamo molto contenti di aver fatto conoscere i nostri telespettatori a casa questa realtà importante. Andate a vedere sul sito stilericamo.it, è illuminante. Ma soprattutto, allora, cogliamo tutti l'invito di Roberto Chialini, titolare di Stile Ricamo, di andarlo a trovare in azienda e a scoprire come si lavora bene su certe cose che poi, quando le vediamo, magari ci colpiscono, ma non sappiamo neanche perché. E scopriremo perché ci colpiscono così tanto. Grazie, grazie Roberto. Grazie a voi tutti. Grazie. Abbiamo fatto, abbiamo concluso. Allora, abbiamo concluso anche per oggi. Guardo sempre, qualcuno dirà, ma cosa guarda? Guardo Allegra, che è la nostra segrezzaria di redazione che tiene il punto della situazione e mi fa sapere se è tutto a posto. È tutto a posto, per cui noi, nel ringraziare ancora una volta Roberto Chialini, vi ringraziamo per essere stati con noi fino ad ora. Vi diamo appuntamento a venerdì per la prossima diretta di Casa Rossini e naturalmente a tutte le repliche agli orari consueti che ben conoscete. Grazie ancora, restate sempre con i programmi di Rossini TV. Buona giornata.